Ciao, sono Luca e in questo video vedremo i tre errori che spesso si commettono per quanto riguarda il carl con manubri per aumentare la massa muscolare dei bicipiti e in particolar modo anche per lavorare sul picco. Fondamentale quindi non ovviamente farli per un discorso di efficacia e anche di sicurezza nel caso peggiore. Primo errore è quello che io chiamo la modalità circo dove uno ovviamente esegue il tutto in maniera non controllata con un movimento non lento ma un po' esplosivo, di fatto per l'appunto come se fosse dei birilli in mano per fare un po' il giocoliere, quindi sicuramente il tutto non ha senso, se il carico è leggero il tutto comunque non è efficace e basta, se il carico è pesante rischi di farti il male, non senti il bicipite, non senti niente quindi ovviamente inutile fare grandi considerazioni, non ha alcun senso. Quindi mi raccomando per evitare questo errore è un movimento lento e controllato con un ampio arco poi alla fine del video vedremo un po' come correggere il tutto altrimenti non puoi vedere grandi risultati in termini di efficacia perché ovviamente non senti niente, manca la consapevolezza muscolare, il tempo sotto tensione la connessione a mente e muscolo e se anche ovviamente ridicolo da guardare perché ovviamente il tutto non ha il minimo senso per un discorso di efficacia e quant'altro. Dopodiché secondo errore è usare un carico troppo elevato, altro classico, dove ovviamente ci si inclina ci si flette lateralmente in maniera super pericolosa con un carico per l'appunto troppo elevato mantenendo un po' gli errori visti prima, anche se in realtà comunque il movimento è un po' più lento però sempre con ovviamente una totale mancanza di controllo, movimento, connessione a mente e muscolo quindi manca tutto, quindi già visivamente uno viene da ridere quindi che sia il primo o il secondo errore vedi che ovviamente il tutto non ha il minimo senso per un discorso di efficacia. Infine il terzo errore ovviamente è il fatto di non enfatizzare la supinazione, cioè questo movimento qua il bicipite serve sia per flettere il gomito sia per supinare, se fai così vedi che il bicipite si contrae e si accorcia per permettere per l'appunto questo movimento. Quindi fondamentale sin dal punto di partenza quando esegui il curl e per l'appunto enfatizzare la supinazione quindi già quando parti oltre ovviamente a flettere il gomito, quindi il braccio in sé vai per l'appunto anche a enfatizzare la supinazione arrivando con il mignolo più in alto del pollice. In questo modo senti meglio la contrazione e la supinazione poi è quella che ti permette di lavorare molto sul picco del bicipite stesso, che sia carlo con manubri o altri esercizi per i bicipiti che permettono la supinazione quindi mi raccomando in generale ovviamente che sia in piedi o seduto, carico adeguato, movimento lento e controllato sempre scapole adotte e depresse, schiena che mantiene le curve almeno per la parte alta e dopodiché per l'appunto lavori molto su un'esecuzione impeccabile per un discorso di efficacia e di sicurezza. In questo modo puoi avere ottimi risultati senza le schiaia di farti il male e con una presa mai troppo stretta altrimenti intervengono troppo gli avambracci a livello muscolare il che toglierebbe stress a carico dei bicipiti, quindi mi raccomando presa non troppo stretta altrimenti per l'appunto i bicipiti lavorano meno. Sempre per l'appunto con enfasi sulla supinazione arrivando con il mignolo più in alto del pollice dopodiché in questo modo puoi avere ottimi risultati per quanto riguarda la contrazione dei bicipiti stesso e sentire al meglio la contrazione e escludere il più possibile gli avambracci e nel corso del tempo poi dopo aumenterai i carichi ma senza arrivare mai ovviamente al punto in cui sei per l'appunto in modalità circo piuttosto che bodybuilder con carichi super pesanti perché rischi di farti il male. Quindi stacci molto attento, dopodiché puoi avere ottimi risultati nelle sue varianti anche magari alla panca a scott piuttosto che applica questi principi un po' per tutti gli esercizi per i bicipiti dopodiché non hai problemi, sicurezza, efficacia, ottimi risultati con il carico che è solo un mezzo, lo aumenterai nel corso del tempo ma non è il tuo fine ultimo e già dal giorno 1 per usare un carico più elevato possibile. Te li mando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao! Ciao!